ben trovati a spazio interviste speciale coronavirus in diretta in collegamento con noi il presidente della prologo di taormina sergio spadoni che ringraziamo per aver accolto il nostro invito buonasera spadoni ben trovato buonasera a voi buonasera grazie per l'invito col presidente della prologo di taormina tratteremo l'emergenza coronavirus a livello economico perché sappiamo che taormina è la capitale del turismo quindi sta soffrendo anche a livello economico soprattutto a livello economico tutte le strutture alberghiere vero presidente sì sì purtroppo diciamo che le vittime sono economiche da parte di taormina speriamo speriamo di questo questo virus maledetto che ha praticamente metuto tante vittime il nostro territorio sta benissimo purtroppo economicamente cominciamo ad avere dei sei problemi la stagione estiva doveva iniziare moltissime strutture alberghiere e non hanno rinunciato ad aprire proprio perché le disdette sono arrivate in massa ed è ovvio perché si è fermato tutto il mondo le compagnie aeree non si vola più non si arriva più non riusciamo a capire a percepire quale sia il termine di questa crisi e soprattutto molti albergatori molti commercianti hanno il terrore che questa stagione quindi tutto il 2020 possa risultare negative quindi non si faccia non si riesca completamente ad aprire e avviare l'attività turistica voi avete sentito presidente delle voci da parte degli albergatori che hanno dei dubbi e vorrebbero anche dei chiarimenti a livello locale sul decreto cure italia le cui domande dovrebbero pervenire entro la fine del mese quindi magari qual è la vostra il vostro suggerimento per un'iniziativa in aiuto di queste strutture il suggerimento nasce da una diciamo un discorso che ci siamo fatti telefonicamente con alcuni amici albergatori e commercianti cioè il comune dovrebbe istituire un ufficio uno sportello in via informatica in via telefonica dove suggerire e dare la possibilità a chiunque possa farne possa soffrirne di accedere a tutte quelle che sono le attività di pronta gestione per la cure tale che significa avere delle informazioni in merito al mio punto alle mie attività commerciali al personale a tutte quelle cose che non riesco ad avere chiarezza attraverso il decreto il comune attraverso l'istituzione quindi attraverso tutte quelle che sono le attività istituzionali possa riuscire attraverso questo sportello a darmi queste risposte e a entrare in tempo a preparare tutta la documentazione a fornirla per avere questi contributi non è semplice però io invito l'amministrazione comunale a sbrigarsi a dare la possibilità ai nostri cittadini ai nostri imprenditori di usufruire di queste iniziative che tanto lodevole è stata creata dal primo ministro Conte e speriamo anche di uscirne presto Presidente e che la stagione turistica Tormina prenda il suo avvio prima possibile. Ringraziamo il Presidente della Prologo di Tormina Sergio Spadoni per essere stato con noi Presidente, buon lavoro e grazie. Grazie a voi, grazie, grazie ancora e speriamo bene, speriamo di uscirne presto e tutti sani, auguri a tutti, buona sera. Grazie Presidente, noi ci aggiorneremo con le altre interviste, grazie per essere stati con noi.